Dopo la conferenza stampa del ministro Fitto del 27, è chiaro che il giorno dopo, appena letti i giornali o sentite le notizie, i comuni sono tutti a chiedere spiegazioni. Spiegazioni, finora senza risposta, le hanno chieste al ministero anche Lanci e Lupi Veneto, comuni e province in fibrillazione dopo l'annuncio del ministro Raffaele Fitto, di rimodulazione del PNRR, operazione che toglierebbe dal piatto fondi destinati ai territori per 13 miliardi di euro senza dare garanzie sulle fonti di finanziamento alternative. L'annuncio della proposta di revisione fatta dal ministro Fitto ha creato parecchio sconcerto e preoccupazione fra i sindaci. Molti cantieri sono già avviati, ci sono tante gare in corso e è chiaro che una volta che ci sono i contratti già stipulati, il comune deve avere la certezza della fonte di finanziamento e anche dei tempi, perché ci sono i stati di avanzamento dei lavori, ci sono le imprese che devono essere pagate e in più ci sono tutte le questioni procedurali. Se cambiano le regole in corsa, i comuni non sanno più quale regola applicare. E un'altra questione molto importante, ci sono dei bandi che sono pubblicati in fase di aggiudicazione, i comuni si chiedono se devono andare avanti oppure no. Per non perdere il treno del PNRR i comuni veneti sono stati rapidi a mettere in campo progetti e avviare ITER. Si parla di lavori per un miliardo, ora però questa solerzia rischia di trasformarsi in un boomerang. Sono più di 300 comuni che hanno ricevuto piccoli o grandi finanziamenti che si sono attivati perché c'era da rispettare i tempi di aggiudicazione imposti dal PNRR. È chiaro che a questo punto la scelta diventa difficile, perché se ci si ferma a collegare, poi c'è il rischio che se questa rimodulazione non viene approvata così come annunciata, si rischia di non rispettare più i tempi e di perdere il finanziamento. Se invece la gara si va avanti e si continua con l'aggiudicazione, con lo svolgimento dei lavori, bisogna avere la certezza del finanziamento. E quindi a questo punto quello che si chiede è un chiarimento urgente da parte del governo. In attesa che l'esecutivo dia delle direttive precise, resta l'amarezza per l'ennesima prova dello scollamento tra il centro e i territori. Cambiano i governi, ma a sostanza non cambia. A livello ministeriale dovrebbero tenere conto delle criticità o delle esigenze operative che le amministrazioni locali ogni giorno vivono e verificare prima di proporre una modifica normativa quali sono le conseguenze, per poi evitare ogni volta di dover fare delle rettifiche successive, però mandando nel caos tutti gli uffici.